Luigi Lamarco, oggi avete chiesto come sindacati un incontro all'assessore del lavoro a Gandolfo per conoscere la situazione rifiuti a una settimana dall'avvio dell'appalto, ma ancora non ci sono novità. Sì, ancora l'appalto non è stato giudicato né provvisoriamente né definitivamente, abbiamo richiesto un incontro urgente con l'assessore per capire un attimino cosa voleva fare, la commissione aveva giudicato l'appalto giusto per avviare le procedure del passaggio, visto che siamo a sette giorni dalla scadenza, ringraziamo l'assessore per la disponibilità immediata che ci ha dato per l'incontro, ma non ci ha detto assolutamente nulla, non sappiamo se il 30 siamo tecnoservice o con la nuova ditta, l'unica cosa che ci è garantito è che indosseremo una maglia, avremo una maglia da indossare e basta. Non si esclude una proroga anche se è tecnica magari di uno o due mesi? No, non si esclude perché a questo punto abbiamo più una settimana, difficilmente nel giro di cinque giorni si riesce ad incontrare la vincente di questa gara che non sappiamo appunto oggi chi è, difficilmente in cinque giorni possiamo incontrare, fare passaggi d'appalto e fare tutto è praticamente impossibile, quindi il rischio di un'unteriore proroga ci sarà, speriamo che se sarà sarà un mese e nel giro di un mese si sappia finalmente chi ha vinto questa gara e finalmente venga l'azienda nuova, la conosciamo e si parte con il nuovo servizio.